E' un pezzo importante della storia del giornalismo del nostro paese, allora una carrellata di alcune delle sue trasmissioni televisive. Michele Santoro. Siamo qui, siamo con voi e comunque la pensiate bentornati a Samarkand. Vuole fare un dibattito con me Berlusconi? Dobbiamo andare da Costanzo in territorio neutro. Vorrei che lei mi lasciasse con cortesia dire due cose. Si sul fatto, però senza insultare noi, perché questo... No, io non sto insultando. Perché lei prima dice ai suoi di non venire, poi dopo dice che non rimuove il vincolo. Non venire in trasmissioni tra bocchetto. Una mattina Mi son svegliato Oh bella, ciao Bella, ciao Bella, ciao Ciao, ciao Mi dicono che vuole intervenire il direttore generale della RAI, Mauro Masi, prego Io dissocio me stesso l'azienda da un tipo di trasmissione che potrebbe violare il codice d'autoramentazione Ah, potrebbe violare, certo Qualunque trasmissione potrebbe violare Non è così Santoro Anche lei potrebbe violare qualcosa in questo momento Anche la volevo lei E quindi Lo sto dicendo in termini formali Vabbè, abbiamo capito come lei, come direttore generale Grazie Michele Santoro Ben trovato ad Agorà Grazie davvero Grazie a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E mi sono sentito sempre del servizio pubblico Una proprietà del servizio pubblico A volte è libera uscita Però sempre del servizio pubblico E allora ti chiedo, insomma Hai fatto tanto, hai fatto tutto Hai accompagnato per decenni Ti sei scontrato ogni volta che tu hai ritenuto A un certo punto, in questo momento Io dico sempre che in realtà Non sono mai stato nel flusso maggioritario Quindi ho sempre fatto delle trasmissioni controcorrente Delle trasmissioni che andavano a fare le bucce al potere Che in quel momento c'era Fosse di sinistra, fosse di destra Senza fare troppe distinzioni Però che cosa rappresentavo io? Rappresentavo un punto interrogativo Guarda che il punto interrogativo è una cosa molto importante Nell'informazione Cioè poter mettere un punto interrogativo Sul flusso maggioritario E quello che io vedo oggi Che sento come mancanza È proprio la mancanza dei punti interrogativi Sì, magari ci sono grandi discussioni Dove si affrontano diversi pareri Però mancano delle trasmissioni Che nella narrazione possono introdurre Quel famoso punto interrogativo Per esempio dopo l'11 settembre Io feci una trasmissione Mentre tutti i giornali italiani Titolavano Siamo tutti americani Io feci una trasmissione Che si intitolava Siamo tutti americani Punto interrogativo E quel punto interrogativo Fu decisamente importante È ancora questo punto interrogativo Che in questo momento della tua vita Ti porta sostanzialmente A essere anche qui Insomma ti ringraziamo per questo E a Qualcuno avrebbe detto A scendere in campo Ma comunque A continuare a rappresentare idee E probabilmente punti interrogativi Ma è esattamente questo Io non riesco A spiegare bene Nei trasmissioni dove vado Nel mio punto di vista attuale Che è proprio quello Di far emergere un'opinione pubblica In realtà continua il mio lavoro Di giornalista Far emergere un'opinione pubblica Che in Italia c'è Che è contraria alla guerra Che individua nella guerra Il principale nemico Cioè non in una delle due Parti in campo Che si affrontano Ma nella guerra Il nemico che dobbiamo Affrontare e battere E che non ha espressione Nella politica italiana Molto spesso Le mie posizioni Vengono ridotte In maniera caricaturale Oppure trasportate Sempre su un terreno Di tipo filosofico Tu stai per le armi Tu stai contro le armi No Il problema che io pongo Non è tanto Se si usano le armi o no Io sono contro l'uso delle armi Sono per la non violenza Sono per la non belligeranza Ma il problema Che in questo momento Sento come un vuoto È il fatto che non esiste Una politica Che ci dica Dove siamo diretti A che cosa puntiamo Quali sono gli obiettivi Che vogliamo conquistare Non è tanto il fatto Che tu inorridisci Per quello che succede a Gaza Chi è che non inorridisce Oppure per i morti Che ci sono in Ucraina O per la distruzione in Ucraina Chi non la sente Come una violenza Anche a se stesso Il problema è capire Che cosa si può fare Per uscire da questo E lì io vedo L'impotenza Della politica Italiana Ed europea In particolare Quello ti stavo chiedendo L'Europa Oggi Peraltro è un'Europa Che tu insomma Ben conosci L'Europa troppo debole Siamo tutti troppo deboli Anche come Come tu dici Elaborazione di pensiero Altro rispetto A quello che stiamo facendo Più che debole Perché è stata trascinata In una guerra Perché siamo In una guerra Questa è una delle grandi Bugie che ci raccontano Che noi non stiamo partecipando Che la guerra Che si sta svolgendo È solo tra Gli ucraini e i russi Non è così Noi siamo pienamente partecipi In quella distruzione In quelle case distrutte Nel mare di Azov Dove non crescono più Dove non nascono più pesci Va bene C'è anche La forza Delle nostre armi Quelle che noi Contribuiamo Ad inviare In quei luoghi Altrimenti Le cose sarebbero svolte In una maniera Differente È certo che c'è Un aggressore È certo che c'è Un aggredito Ma se tu trasformi Quella che è una contesa Tra due nazioni In una guerra planetaria Beh Questa è un'altra cosa Di fare un salto Di qualità Se tu dai i missili A chi non ce li ha La distruzione Non ti vede Assente Allora Io la principale cosa Però dico Li mandi Sti missili Ok Ci vuoi spiegare Perché li mandi Ci vuoi spiegare Qual è la linea rossa Dove ti vorrai fermare E questa spiegazione Non viene mai I nostri politici Non la danno E noi abbiamo Un'altra vittima Che Che dobbiamo vedere A parte la verità Ed è L'Europa Cioè Questo soggetto politico Dove essere Un soggetto politico Di pace Di intermediazione Che avrebbe Degli interessi A comprendere Anche la Russia Nel suo orizzonte Che invece Vede separarsi Dalla Russia Da una catasta Di cadaveri Bene E l'Europa Non c'è L'Europa Che sognavano I suoi fondatori Come soggetto di pace È stato cancellata È stata praticamente Cancellata Questa guerra Voluta Dagli Stati Uniti È voluta Dall'Inghilterra Cioè L'Inghilterra Che è uscita Dall'Europa Il Papa Forse per primo Come leader politico Il Papa Ovviamente È un leader politico Insomma Ha avuto Io dico che è il mio unico Punto di riferimento Perché è stato poi il primo A dire A parlare apertamente Di una guerra mondiale A pezzi Lo ha fatto lui Allora Papa Ha aperto la strada E poi Ma tu hai paura Che questa guerra Diventi È una guerra Che già hai nato Chiaramente Ma che questa guerra Diventi veramente Una guerra Cioè qualcuno dice Entreremo in una guerra Insomma Così come Ricordiamo Molti di noi ricordano Solo attraverso Le pagine della storia Insomma Noi abbiamo conosciuto Altri momenti Di crisi Come questa Però c'erano Due potenze Che anche Quando si misuravano Per esempio A Cuba Sulla questione Dei misteri A Cuba Mantenevano aperti I canali Di comunicazione Fra di loro Questa è la prima volta Che diciamo Russi E americani Non si parlano E i protagonisti Politici Sulla scena Non sono Del livello Di quelli Di allora Cioè Noi non abbiamo Kennedy Abbiamo Biden E c'è una grande Differenza Tra Kennedy E Biden Proprio per la capacità Anche di contrastare Gli interessi Sovrastanti E sottostanti Che sono quelli Non solo Di coloro Che producono Le armi Ma anche di coloro Che speculano Sul debito Delle nazioni Che diventano ricchi Che diventano Plutocrati Speculando sul debito E oggi Il sistema Della guerra Mantiene Queste oligarchie E cancella La speranza Di quelli Che stanno sotto Che una volta Io lo dico sempre Mio padre Che era un macchinista Delle ferrovie Aveva cinque figli E poteva mandare Cinque figli All'università Questo negli anni Sessanta Oggi Un macchinista E le ferrovie Mandare cinque figli All'università Avendo un solo reddito È impossibile Quindi noi Con questo sistema Di guerra E del debito Stiamo cancellando La speranza Stiamo cancellando Il ceto medio Non solo Stiamo impoverendo Creando più poveri Come ci dicono Le classifiche Istat Ma stiamo indobblendo Il ceto medio Quindi o ci sono Quelli ricchissimi Che stanno sopra Sono irraggiungibili Oppure c'è una massa Di persone Che addirittura Rinuncia Perfino alla vita politica Alla partecipazione democratica Perché Comincia a pensare Che non serve a niente Quindi questa mia sfida È fondamentalmente Rivolta A quelli che non credono più Nella democrazia Cioè dire Entrate in campo Perché se entrate in campo Voi Anche la politica Che c'è Sarà costretta Allora guarda C'è un tema Che è freddissimo Ma tecnico Pace, terra e dignità Dico bene Che è quella linea Di sbarramento Ma è più importante Superare quella linea Di sbarramento Oppure continuare a parlare E lavorare pensiero E condividere posizioni Per te in questo momento Ma guarda Io vedo questo Che semplicemente L'annuncio di questa lista Ha prodotto Dei miracoli Io penso che il PD È andato alla ricerca Di candidati pacifisti Adesso Alcuni di questi Sono anche miei amici Per cui Io mi auguro Pure che vengono eletti Perché non vedo Con ostilità Assolutamente Questo loro tentativo Mi chiedo Con quale coerenza Loro che sono contro L'invio di armi Possono capeggiare Una lista Di un partito Che è favorevole All'invio di armi In Ucraina Ribadito da Vespa L'altra sera La Schleid Che loro continueranno Ad appoggiare Con l'invio di armi L'Ucraina Ma soprattutto Mi chiedo Ma sto partito Il PD Che non ha fatto Una sola assemblea Per discutere Di questo argomento Non ha fatto Una sola riunione Di sezione Adesso che fa Si presenta alle elezioni E mette a capo Della lista Un pacifista Ma scusa È un po' come quelli Che divendevano Gli aspirapolveri Porta a porta Insomma Non voglio chiamarla Truffa Nei confronti Dell'elettorato Però comunque È una specie Di imbroglio Perché Un conto sarebbe stato Un partito Che cambiava Linea politica Diceva Ho sbagliato Oppure In questo momento Bisogna fare questo E un altro Un partito Un partito Come dice Casini Siamo pluralisti Ma pluralisti Di che? Scusate Se eravate pluralisti Diciamo Dovevate fare Delle assemblee Come si facevano Per esempio Del partito comunista Quando è stato invasa Tutte le sezioni Sono riunite Chi era a favore Chi era contro Chi parlava contro L'Unione Sovietica Invece In questo momento Abbiamo fatto Questa scelta Che è contraria Secondo me Al dettato La nostra Costituzione Senza discuterne Praticamente Posso dirti una cosa Insomma Tra poco vi salutiamo La cosa molto Per me Insomma Sono un pochino Più giovane di te È ancora Guardarti Ascoltarti E soprattutto Vedere la tua Grande passione Che non viene meno La voglia di parlare Con le persone La voglia di essere Qui alle nove di mattina Insomma Ad agorà E parlare con noi E questo Penso che sia Magari non c'è la voglia Ma è senso del dovere Però c'è pure la voglia Anche nel senso del piacere Perché vivere C'è quel momento Di commozione Poi qui ci sono Tante persone Che hanno lavorato Con me Cioè adesso Dietro i 15 Ovviamente Tra i giornalisti È più facile Però per esempio Molti non sanno Che la mia Più grande passione È sempre stata Quella Di avere un rapporto Con chi faceva Il montaggio Il montaggio E il linguaggio Della televisione I montatori Sono stati sempre Il cuore Diciamo Delle mie redazioni Sono stati Sempre più importanti Che i giornalisti Più importanti Che giornalisti E sono d'accordo E adesso che è venuto Uno diciamo di loro A salutare Lo so bene Ti è venuto a salutare Esatto E che adesso lavora con noi E' veramente un autore Nel suo campo E sono queste le cose Che poi Dai Guarda avrei voluto Scattarti una fotografia Avrei voluto Scattarti una fotografia Tu eri dietro le quinte Quando sei entrato Io con la coda Dell'occhio Ti ho guardato E non so Il tuo sentimento Però ti guardavi intorno Tornavi Tornavi in un posto Che è tuo In quei momenti Che tu Hai fatto vedere Paradossalmente Io cercavo Conforto Nel Nel loro parere E mentre Nella redazione Magari c'erano sempre Quelli che criticavano Non erano d'accordo Ma non lo davano Magari a vedere Bene Io quando entravo In quelle salette Di montaggio Sentivo diciamo Il conforto Di quelli che Veramente erano Dalla mia parte E capivano Quello che stavo Facendo Come io Ho sempre capito Anche i loro problemi E ho cercato di Di aiutarli A realizzare Diciamo Quelle che erano Le loro speranze Molto bello Che tu La tua prima risposta Quando sei entrato Mi hai detto Io insomma Torno qui A Saxa Peraltro non ho troppo lavorato Ma insomma Io mi sento un uomo Nella storia della RAI Ecco Questo è stato davvero Molto bello Allora io Intanto ti ringrazio E ti chiedo Di rimanere solo un minuto Perché noi abbiamo oggi Un centro d'ascolto straordinario Siamo a Milano Siamo in zona Forlanini Sud Verso l'autostrada E c'è un Siamo in un centro anziani Eccoli qui Buongiorno Bentrovati Con la nostra Cinzia Cubini Hanno seguito con noi Tutta quanta la trasmissione Adesso con loro Parleremo anche di sanità Ai nostri anziani Che dici Michele? Ma Io dico che noi Dobbiamo veramente Goderci La vita ogni giorno Ogni giorno Che ci svegliamo E che Non siamo Siamo assolutamente Uguali agli altri Cioè siamo uguali Ai bambini Che noi sentiamo Con più passione Di quanto la senta Il resto della società Siamo uguali Alle donne Siamo uguali Alle persone più diverse Che popolo La nostra società Cioè dobbiamo avere Questo piacere Della vita Che è un regalo Cioè ogni giorno Che ci viene concesso Per noi è importante Lo dobbiamo vivere Intensamente Quindi Anche questa divisione Qualcuno ha detto Per esempio Che io non potevo fare Questa avventura Perché ero vecchio Perché ero troppo vecchio E io l'ho sentito Come una cosa Proprio razzista Ma certo che è razzista Tu non puoi fare questo Perché sei nero Perché ormai Cioè sia uguale Stessa cosa No 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 Non siamo Siamo assolutamente Abbiamo gli stessi diritti E qualche volta Abbiamo pure qualche passione In più E un po' di coraggio In più E un po' di coraggio Grazie a tutti.